ciao ciao buongiorno buongiorno ci stiamo preparando per la meditazione un attimo soltanto sono tutte le parti tecniche da fare non ho chiuso la finestra ma non importa perfetto allora un attimo che lancio anche la radio allora buongiorno a tutti e soprattutto buona festività dell'epifania è una festività molto particolare che tutti quanti noi pensiamo sia legata principalmente alla al credo cristiano ma così non è ed è appunto per questo voi sapete che il mio approccio l'approccio di arti movimento dell'università assolutamente laico e assolutamente spirituale e appunto per questo stamattina mentre facevo colazione ho pensato che sarebbe stato opportuno poter veramente nutrire ciascuno di voi facendo di un attimo riflettere sul significato sulla tradizione sulla storia di questa festa e poi immergervi in una meditazione che ho preparato per voi innanzitutto noi sappiamo tutti quanti che epifania deriva dal greco epifanea neia che significa appunto apparizione e quindi in un senso più ampio significa la festa della manifestazione e la manifestazione chiaramente è legata a che cosa è legata a gesù è legata al cristo è legata al al figlio di dio secondo la tradizione appunto cattolica che si manifesta in quattro tampe diverse chiaramente nasce nasce il giorno di natale poi il 6 si celebra dal punto di vista tradizionale l'adorazione dei re magi quindi la seconda manifestazione la terza e il suo battesimo però per appunto di giovanni battista è il quarto e il miracolo delle delle nozze di cana dove per la prima volta gesù cristo trasformerà l'acqua in vino quindi queste quattro manifestazioni in qualche modo vengono esaltate da questa festa dall'epifania quindi questa manifestazione divina effettivamente da un punto di vista squisitamente cattolico oggi si celebra il battesimo il battesimo di cristo quindi cristo che si fa uomo dio che si fa uomo viene battezzato dal cugino che aveva già annunciato precedentemente l'arrivo di qualcuno a cui lui non sarebbe stato degno neanche di lavare i sandali e quindi c'è questo momento appunto di immersione il concetto dell'acqua l'acqua che purifica quindi la manifestazione di dio che in qualche modo è legata anche alla purificazione l'accoglienza alla possibilità che un corpo possa accogliere questo divino e poi chiaramente come la tradizione ci insegna oggi si ricordano anche i tre i tre magi i tre magi che raggiungono il cristo aveva il bambinello appena nato ed è molto bella questa immagine perché questi tre magi che rappresentano appunto le tre aree del mondo conosciuto da allora che sono appunto l'asia l'europa e l'africa che portano dei doni a quello che era definito avevano definito come chiaramente re dei giudei questo è un aspetto molto interessante il re dei giudei e oltretutto cosa offrono noi sappiamo che loro offrono oro incenso e mirra e sono melchiorre baldassarre gaspare ma cosa rappresentano questi tre uomini oltre che le tre aree geografiche conosciute rappresentano anche le tre età dell'uomo infatti secondo la raffigurazione l'iconografia bizantina queste tre questi tre personaggi questi tre re questi tre sapienti rappresentano appunto il giovane l'uomo maturo e l'uomo anziano appunto rappresentare le tre tappe divine a rappresentare il fatto che dio e l'adorazione di dio la manifestazione dell'adorazione di dio debba essere in qualche modo celebrata in tutti i momenti della nostra vita e quindi simbolicamente rappresenta questo aspetto ecco quindi dal punto di vista invece simbolico cosa rappresentano i doni che loro fanno loro chiaramente tutti quanti sappiamo il metallo prezioso l'oro rappresenta la ricchezza rappresenta l'opulenza rappresenta appunto l'abbondanza che regale l'abbondanza di un re l'abbondanza che comunque in qualche modo può appartenere a ciascuno di noi l'incenso l'incenso sappiamo tutti che una resina che serve per evocare e per ringraziare il divino e anche per purificare gli ambienti e noi stessi appunto per accogliere il divino quindi l'incenso è un ringraziamento ma è anche un dono che permette la preparazione simbolica dell'accoglienza di questa manifestazione di dio dentro di noi la mirna invece è una sostanza per imbalsamare e quindi per rendere immortali e allora ci ricorda la mirna e il fatto che noi siamo anima il fatto che noi siamo non siamo questo corpo e quindi siamo immortali siamo divini e poi la befana chiaramente è una tradizione ancora più antica infatti fa parte delle civiltà pre cristianiche perché tra il 5 e il 6 di gennaio era costume in queste civiltà legata mediterraneo celebrare che cosa la morte la rinascita della natura e quindi come avveniva attraverso il sacrificio della madre terra la madre terra che era raffigurata come una vecchia signora che lasciava spazio quindi simbolava per lasciare spazio al giò alla giovane alla giovane che poi avrebbe in qualche modo rappresentato i nuovi raccolti il nuovo la nuova vita infatti in qualche modo simboleggia anche il vecchio anno che appena trascorso e che ci si apre quindi fa spazio al nuovo che avanza o tutto è molto interessante perché dal punto di vista etimologico la dea madre era chiamata in lazzo per esempio bubona termine legata ai bovini bubona e poi bifolco che il latino che appunto era il bifulcum che era il guardano dei buoi quindi sembra che bubona e bifulcum si sono un po mischiati in bifana che poi è diventata befana e quindi appunto per questo la tradizione è molto molto arcaica molto lunga e non è stata accettata dai dai cattolici perché appunto era una ritualità assolutamente pagana e appunto per questo come noi sappiamo come abbiamo già detto per la festa del sole che poi hanno è stata trasformata nella nascita di cristo ma anche la befana poi questo questa festa simbolica si è trasformata nell'epifania quindi nella manifestazione come dicevamo prima chiaramente epifania befana comunque in qualche modo anche l'assonanza può essere può rimanere quindi in qualche modo è legata anche a questo a questo a questo termine latino il nome infatti non peraltro il fuoco è un elemento molto a cui si ricordava moltissimo nella tradizione è come se si volesse appunto fare un falò per scacciare le entità maligne e per propiziare il nuovo anno che avanzava l'ultimo concetto volevo dirvi che dal 31 ottobre quindi il giorno di sauin al 6 gennaio si apre un periodo energetico molto forte che passa attraverso delle tappe particolari che sono appunto il giorno dei defunti se vogliamo pensarlo santa lucia il 13 dicembre jul o il sostizio d'inverno il 21 e poi il 31 silvestro che chiude le porte all'anno e poi appunto si concretizza nel 6 quindi se chiude questo questo periodo in cui il il mondo dello spirito offre poteri e conoscenze ed è appunto per questo che oggi l'ultima strega e quindi c'è anche questa esaltazione del femminile noi sappiamo tantissimo che il culto del femminile del del femminino sacro e fortemente legato alla terra alle civiltà pre cristiane che erano fortemente orientate alla celebrazione del della divinità femminile rappresentata appunto dalla natura e poi da altri da durga per esempio nella tradizione hinduista e poi è appunto questa befana e l'ultima befana l'ultima strega che rappresenta appunto l'ultima reminiscenza che appunto la chiaroveggenza quindi oggi è l'ultimo giorno in cui il mondo dello spirito si apre a noi e ci offre profondamente i suoi doni e quindi ancora oggi un giorno propizio ed è per questo che stamattina ho pensato di omaggiarvi regalarvi a nome dell'università popolare arti movimento questo questa meditazione che ho proprio preparato per voi e che in qualche modo vuole aprirci alla manifestazione del divino che c'è dentro di noi io ho un po sforato come sempre nelle mie introduzioni e ringrazio i presenti e chiaramente ricordando che questa meditazione si potrà poi fare anche più tardi in giornata perché immagino che molti di voi siano impegnati nelle festivi nel nella preparazione dei pranzi perché oggi si chiudono anche le festività natalizie no e quindi si chiude questo periodo in cui il mondo dello spirito si dischiude a noi e anche come si dice l'epifiania tutte le feste porta via appunto perché finiscono anche le festività e a questo punto iniziamo con la meditazione e vi chiedo di staccare i telefoni vi chiedo di trovare una posizione comoda può essere in sesà può essere a gambe incrociate può essere la del loto può essere sdraiati a pancia in su in shavasana come desiderate e iniziate a portare l'attenzione al respiro inspirate ed espirate profondamente permettete al respiro di rilassare il vostro corpo inspiriamo col naso ed espiriamo con la bocca cercando di rendere l'espirazione quindi il secondo momento più lungo del primo inspiriamo ed espiriamo il nostro corpo si distende si rilassa ci accorgiamo che via via perdiamo tutte le tensioni allentiamo ogni parte del nostro corpo e se percepiamo una parte un po più contratta è sufficiente portare l'attenzione a quella parte attraverso il respiro e creare un movimento contrattivo espansivo per liberare quella zona inspira ed espira percepisciti proprio come un'onda come una magnifica onda che è un momento di espansione di pienezza si rovescia e poi alla risacca quindi immaginati in questo modo inspira ed espira profondamente tutte le tue tensioni si stanno allentando tutte le tue tensioni si stanno allentando i pensieri piano piano si risolvono lasciano spazio all'ascolto della mia voce e adesso ti prego di contattare la tua radice terra e contatti la tua radice terra portando consapevolezza la parete perineale alla zona del tuo corpo che dalle anche raggiunge le piante dei piedi contattati quella è la tua terra quella è la tua base contatta quella parte del tuo corpo percepisci questa parte vitalizzala attraverso il respiro e dopo che hai consapevolizzato questa parte contatta la tua radice cielo portando l'attenzione alla parte alta del tuo corpo alla testa e in particolare alla sommità del capo lì è il tuo cielo la tua capacità di andare oltre puoi sentirlo anche vibrare è normale lascia che tutto sia e adesso e adesso e adesso e adesso e adesso ti invito attraverso la visualizzazione a proiettare un raggio un raggio che unisca la tua radice terra alla tua radice cielo metti in comunicazione la tua base con il tuo oltre il tuo corpo col tuo spirito la tua la tua emotività con la tua razionalità collega e permetti a queste due parti di interagire tra di loro sei in perfetto allineamento sei in perfetto allineamento puoi percepire anche la schiena che si distende verticalmente goditi questo momento di assoluta presenza a te stesso dove sei pieno perché hai la tua terra e il tuo cielo che sono in profonda comunicazione tra di loro e adesso ti invito a prolungare questo raggio dalla sommità del tuo capo di altri 15 cm chiaramente verso l'alto e raggiungi uno spazio speciale che si chiama stella dell'anima e in questo spazio che è connesso ancora col campo energetico del tuo corpo ti apri alla luce divina permetti alla luce divina di entrare dentro di te irrorare ogni canale presente in te ogni organo presente in te illuminare ogni parte di te portare portare guarigione in ogni parte di te e mentre l'energia divina la luce divina irrora ogni parte di te tu rimani in ascolto di come appunto la luce ti stia nutriendo a tutti i livelli è così profondo il lavoro che la luce divina sta facendo che percepisci il tuo bambino interiore gioire lo visualizzi giocare in libertà e soprattutto divertirsi fantasticare cogli nella bellezza la bellezza in quei sorrisi in quelle bellissime modalità che questo tuo bambino interiore ha di giocare giocare con semplicità senza schemi e poi non 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 In tale momento di grazia e di leggerezza, visualizzi giungere verso di te tre entità luminose. Una è blu cobalto, l'altra è verde smelaldo e l'altra è un bellissimo rosa. A tratti già loro, le percepisci avanzare verso di te. L'entità luminosa di colore cobalto ti porta in dono un orologio d'oro. Tu lo accogli tra le mani e senti un potere enorme. L'orologio è simbolo del tempo che oggi diventa per te circolare. L'orologio ti reca consapevolezza, quella consapevolezza che si manifesta attraverso la pura presenza nel qui e ora. Porti l'orologio vicino al tuo cuore e inviti dentro di te la consapevolezza, questa capacità di essere a conoscenza di ciò che percepisci e delle risposte comportamentali che dai. Porta dentro di te la consapevolezza. sentila scorrere dentro di te. E per sigillare questo momento, utilizzando il tuo nome, ripeti, nella tua mente, Io, annunziato, sono consapevole e vivo pienamente nel qui e ora. Io, annunziato, sono consapevole e vivo pienamente nel qui e ora. Io, annunziato, sono consapevole e vivo pienamente nel qui e ora. Fallo risuonare dentro di te. Dialoga col tuo inconscio. Sussurra questo decreto a ogni singola cellula del tuo corpo. Grazie a tutti. Ciao. je La seconda entità, quella dal colore verde Smeraldo, ti porta in dono una stella luminosa. Tu subito percepisci il calore di questo oggetto, un calore analogo a una candela accesa, il fuoco dell'intelletto. Questo suscita in te. Infatti, la porti all'altezza della fronte, tra le sopracciglia. Questa rappresenta l'intuizione, il discernimento, la lucida visione. Permetti a questi doni di entrare dentro di te. Invocali. Permetti loro di vibrare in te. Intuizione, discernimento e lucida visione. E adesso, per sigillare e rafforzare questo momento, decreta utilizzando il tuo nome, quanto segue. Io, annunziato, manifesto adesso il potere della mia intuizione, attraverso il discernimento e la lucida visione. Io, annunziato, manifesto adesso il potere della mia intuizione, attraverso il discernimento e la lucida visione. Io, annunziato, manifesto adesso il potere della mia intuizione, attraverso il discernimento e la lucida visione. Ripetilo dentro di te. Fallo risuonare al tuo inconscio. Sussurralo a ogni cellula del tuo corpo. Sussurralo a ogni cellula. E piano piano si manifesta a te e ti raggiunge la mia intuizione. L'entità, dal colore rosato, magnifico. E lei ti porta in dono il pane, simbolo di abbondanza materiale e spirituale. Lo porti a te. Lo abbracci profondamente. Quasi il pane si possa veramente sciogliere dentro di te. E a questo punto richiama a te l'abbondanza. affinché questo anno tu possa essere sempre nutrito in ogni aspetto e in ogni ambito della tua vita. che tu possa manifestare e che si manifesti in te il migliore contributo che tu puoi avere e vivere. quindi richiama dentro di te l'abbondanza. E mentre l'abbondanza irrora dentro di te fluisce dentro di te esprimi questa intenzione che da adesso che da adesso l'abbondanza fluisca in me annunziato e nutra ogni ambito della mia vita. che da adesso l'abbondanza fluisca in me annunziato e nutra ogni ambito della mia vita. che da adesso l'abbondanza fluisca in me l'abbondanza fluisca in me annunziato e nutra ogni ambito della mia vita. Sussurra questo mantra questa intenzione questo desiderio a ogni cellula del tuo corpo consapevolezza intuizione abbondanza si muovono dentro di te dialogano tra loro ballano tra loro in modo armonioso e tu ti senti autentico ti senti vibrare di una nuova potenza di una nuova energia ti senti rinnovato attraverso questi doni maturi in te la certezza del tuo essere immortale del tuo essere figlio di Dio e come tale divino senti accrescere in te il tuo potere personale la tua determinazione la tua volontà il desiderio di realizzare e di essere il più grande contributo per la tua vita per la tua vita per le persone che ti stanno vicino e per questo piano di esistenza senti il rinnovamento energetico dentro di te senti dentro di te esprimersi e manifestarsi il tuo essere divino stai vivendo la tua epifania stai celebrando la tua divinità rimani quindi in ascolto di questo grande movimento dentro di te sei pieno di gratitudine e quindi volgi a te stesso a questo piano all'universo a Dio il tuo grazie ti visualizzi in gascio unisci le mani all'altezza del cuore in senso proprio di sintesi di unione in te e ti ringrazzi 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 la divinità che è dentro di te e piano piano riprendi il contatto con quel raggio con quel raggio luminoso che ti ha portato a raggiungere la stella dell'anima e ricontattandolo ritorni delicatamente verso la sommità del capo raggiunta la sommità del capo con i tuoi tempi entri delicatamente dentro di te ti reincorpori e raggiungi il tuo cuore che si espande alla vita che è pronto con coraggio ad affrontare questo nuovo anno rimani qualche secondo ancora sul tuo cuore sul tuo cuore in questo momento tu sei il tuo cuore sei il tuo cuore che pulsa che batte pieno di vita pieno di vita pieno di amore verso ogni manifestazione e verso te stesso e piano piano riporta il contatto al respiro inspira ed espira profondamente e dopo tre respirazioni forzate spiando dal naso ed espiando dalla bocca inizi a muovere le estremità del tuo corpo le dita dei piedi e delle mani e poi piano piano muovi anche le mani e i piedi inizi a allungarti a distenderti perché no? a stiracchiarti ben bene e soltanto quando sarai pronto aprirai gli occhi e ti riporterai qui nel qui e ora pienamente qui sentendo una forza dentro di te e soprattutto una grande voglia di vivere e di manifestare chi sei bentornato bentornata allora io ringrazio ciascuno di voi sia i nostri ascoltatori in arti movimento web radio sia questi nostri amici di facebook che sono stati presenti che hanno partecipato ringrazio ciascuno di loro ringrazio chi ascolterà questa meditazione e posso soltanto abbracciarvi e auguro a ciascuno di voi la più grande e armonica epifania un abbraccio forte ragazzi buona giornata e buon proseguimento di settimana ci vediamo presto ciao grazie